La storia, l'arte e l'ingegno imprenditoriale dell'Italia dagli anni 20 del novecento al secondo dopoguerra raccontati dalle copertine dei quaderni di scuola. E questo l'originale percorso offerto dalla mostra alle copertine magnifiche della cartiera Sushon di Fossano, allestita a Torino alla biblioteca della regione Piemonte di via Confienza 14. La cartiera Sushon, che ha cessato l'attività negli anni 70, è stata la fabbrica più longeva e più importante di Fossano, nata cinquecento anni fa e capace a fine ottocento di dare lavoro a più di duecento persone. I quaderni in mostra, allestita grazie a contributo dell'associazione Ragno di Fossano, provengono dalla collezione privata dello studioso Giovanni Cornaglia e sono al tempo stesso testimonianza di culture e costume di un paese che a inizio ventesimo secolo aveva ormai imboccato la strada dell'istruzione obbligatoria ma lottava ancora contro l'analfabetismo. E proprio il quaderno era diventato strumento di insegnamento per eccellenza, con le seconde e terze pagine che riportavano schede didattiche per approfondire e spiegare le illustrazioni delle copertine. Interessante per esempio l'aspetto didattico che hanno alcuni di questi quaderni, soprattutto quelli che rappresentano gli animali, perché hanno nella seconda di copertina allegata una scheda che illustra appunto il tipo di animale con le sue caratteristiche e per l'epoca direi che sono degli aspetti molto interessanti perché per l'epoca appunto rappresentavano una vera e propria novità. A ideare quelle copertine le matite di fini illustratori come Leonidae del Prima e Carlo Biscaretti di Ruffia e Pierluigi Longopoi perché anche il quaderno dalla metà degli anni venti era diventato un business con cartiere e legatorie a contendersi fette di mercato a colpi di illustrazioni. Sui banchi di scuola compaiono così, a seconda della moda e del momento, ascari ed esploratori del periodo coloniale ed animali esotici, scene di vita quotidiana e tradizioni popolari, ma soprattutto personaggi della letteratura per ragazzi, delle fiabe e dell'immaginario dei mondi fatati. La mostra sarà visitabile fino all'8 marzo alla Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte di Via Confienza 14 a Torino, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12.30. L'ingresso è libero.